Allora, l'Azza, un'ottima prestazione, cominciata forse come settimana scorsa a parti invertite, nel senso due mete subito da parte nostra, poi loro invece che si sono normalmente fatti sotto e lì la gara poi è stata veramente punto a punto. Sì, sicuramente abbiamo iniziato veramente molto molto bene la partita, preparata veramente bene in settimana, giocavamo con una grande squadra perché hanno la migliore difesa della Francia, sono davvero una squadra veramente competitiva, quindi sapevamo che la partita si poteva concludere il primo tempo, i primi 20 minuti piuttosto che i secondi 20 minuti. E' stata una partita punto a punto, come dicevi tu, davvero costruita, sofferta per alcuni versi, alcuni tratti della partita, però finalmente possiamo dire che siamo usciti nuovi vincitori sul finale. Dopo alcune settimane in cui il risultato, come dire, stentava ad arrivare, finalmente è arrivato, è arrivato anche attraverso la tua meta, cosa vuol dire per la squadra anche in termini di morale? Allora, diciamo che sono state le settimane difficili perché quando vedi che lavori sempre bene, lavori duro in campo, pioggia, vento, freddo e non raccogli proprio quello che semini, può essere che ti butti un po' giù, però in realtà ci siamo detti che dobbiamo credere nel processo che stiamo creando, quindi di non pensare, il risultato viene in un secondo momento, è anche poi una questione della palla ovale, ci sono tante questioni che si possono tirare in ballo, però sono sincero, abbiamo sempre lavorato settimana per settimana con consistenza, con focus, con dedizione, sapevamo che è un inizio stagione un po' particolare per tutto quello che riguarda la fase mondiale, tutte queste cose qua, però possiamo dire che il lavoro paga sempre e se non paga magari la prima partita, paga magari la seconda o la terza, è tutto a lungo termine, è un investimento sempre a lungo termine, lavorare duro, quindi posso dirti che è sicuramente una vittoria che ci fa quasi ripartire la stagione, ce la svolta un attimo come morale, anche vediamo che quello che stiamo facendo in campo durante la settimana paga. Dicevamo comunque una vittoria che arriva anche attraverso la tua meta, una volta che hai ricevuto palla e hai visto il campo aperto, quanta voglia, l'abbiamo anche vista, quanta voglia avevi veramente di tuffarti e schiacciarla oltre la linea? Non rispondo a questa domanda, dico solo che è una meta come un'altra, nel senso che fa parte del nostro punteggio ed è stata una meta comunque di squadra costruita, una buona mischia, un buon hit up con i centri e poi si creavano di buchi come avevamo visto in settimana, è stata una meta comunque costruita, può sembrare individuale ma in realtà è totalmente costruita dalla squadra, quindi di tuffarmi avevo molta voglia comunque. Lunedì si riparte, si ritorna in Pro 14, nell'inizio di almeno due settimane importanti che sono quelle che ci vedranno andate in ritorno contro le Zebre, prima fuori casa, poi qui a Monigo il 21 e il 28. Quanto aiuta questa vittoria? Come lavorerete in settimana? Di sicuro credo personalmente che la sconfitta di settimana scorsa, quella è stata un po' più pesante diciamo, di quelle subite, ci ha fatto accendere qualcosa che magari forse ancora quest'anno non avevamo ancora bene acceso, quindi io credo che non tutto il male viene per nuocere e secondo me averla presa ovviamente prima di una parte del campionato fondamentale, che sono sempre i due derby più Glasgow, non ce lo nascondiamo, siamo dei professionisti, dobbiamo convivere con la pressione delle partite importanti. Quindi ti dico sicuramente, io la vedo in maniera molto positiva, cioè che adesso non è in discesa, però il nostro focus di squadra adesso è molto più centrato. Grazie ai tifosi e sempre avanti. Grazie a tutti.